Alvia il nuovo bando per la digitalizzazione delle imprese della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Le aziende per quanto riguarda la provincia di Arezzo che sono già sul web sono il 16%, una media più alta di quella nazionale che si attesta sul 10%. Incentivi alle imprese fino a 7.000 euro che consente all'impresa di avere un contributo per acquisto di beni e servizi, per acquisto di consulenza personalizzata, per acquisto di servizi formativi. Quindi una varietà di opportunità per la nostra impresa per finalmente allinearsi a quella che è la media europea dove il 50% ormai delle imprese è completamente digitalizzata. Noi siamo molto indietro come sistema paese, come regione toscana, come Arezzo, solo il 10% delle nostre imprese è pienamente allineato nei processi produttivi, nel marketing, negli aspetti commerciali al digitale. Basti pensare agli agriturismi, basti pensare all'alberghiero, al processo produttivo di tante nostre aziende che è ancora molto tradizionale, quando qui c'è una frontiera veramente di consumatori che acquista soltanto online. Quindi per superare questo gap, per accompagnare le imprese ad allinearsi a questa frontiera, come Camere di Commercio in Italia col Ministero abbiamo avviato questa attività di consulenza e di orientamento che facciamo attraverso questi punti impresa digitale. Ad Arezzo per la verità abbiamo una percentuale più alta che è quella del 16%, quindi siamo già un po' più avanti, però è chiaro che dobbiamo recuperare molto, abbiamo davvero un autostrada davanti da recuperare e tante opportunità che le imprese possono cogliere. Quindi siamo al fianco delle imprese con ovviamente consulenza, formazione, come dicevo risorse perché questa sfida si possa combattere e vincere.